Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Sarzana e Carrara, in direzione Rosignano. Spostandoci in FIPILI, coda e a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze e Scandicci, in direzione Firenze. Attenzione al personale sulla strada per lavori in direzione Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno, e tra Interporto Toscano-Est e Interporto Toscano-Ovest, e in direzione Firenze, tra Ginestra-Fiorentina e la Strassigna. Per le statali, sulla Trebbi-Stiberina, fondo stradale dissestato tra Val Savignone e San Carlo, in entrambe le direzioni. Chiusura di una corsia per lavori tra città di Castello e Sansepolcro-Sud, in direzione Ravenna. Muoversi in Toscana Info, in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!